io userei le corde basse così in questo modo quale ma fai fatica con questo fai anche tu come un giro robin fai anche tu come un giro robin senza ponte non usare più il ponte il ponte non serve non serve il ponte guarda che adesso tiro un porco e addirittura la chitarra e addirittura la chitarra rimarrà intonata no ma sei perso dall'ottava ah no ci si fanno i segni no ma non ho fatto i segni lo butta su così perché se no non ho delle storie strane chitarra moderna negli anni 50 si muove tutto capisci un aiuto dall'interno non ho fatto i segni tu hai calma di niente